In pomeriggio e in poi sono già onorevole, sì. Ecco, con quanti voti lo sai? Ma credo che più o meno 20.000, se non sbaglio. 20.000, 20.000 voti. Non è pochissimo, vero? No, è un ottimo risultato, complimenti. Io comunque oggi rappresento il partito radicale, anzi lascio subito dire la sua. Io mi rivolgo allora all'onorevole Staller per chiedergli che cosa viene a fare in Parlamento, cioè quali saranno, cosa consisterà la sua attività parlamentare. Il mio impegno politico insieme con i radicali, certo. Mi consenta di ringraziare innanzitutto i miei elettori, le mie elettrici, che hanno voluto eleggermi alla Camera dei Deputati e di ringraziare anche il partito radicale che non ha voluto discriminarmi, ha accettato di sottopormi al giudizio degli elettori, anche se ha poi sottolineato che raccomandava l'elezione degli altri sia giusta contro il nucleare a ottobre. Appoggerà a qualsiasi governo che si impegnerà a realizzare entro un anno gli obiettivi che il partito radicale sottoporrà all'attenzione del Parlamento. Quindi è passare a subito a organizzare un grande movimento. E' passare a subito a subito a subito a subito al Parlamento.